Ciao amici, come vi state organizzando con la dieta per l'inverno? Abbiamo già parlato di cibi riscaldanti che rafforzano contro i malanni invernali. Oggi invece voglio parlarvi di un classico intramontabile in ogni stagione, l'insalata e come trasformarla in un piatto gradevole anche in inverno contro il freddo. Leggera e nutriente, con un po' di inventiva può diventare un'alternativa alla zuppa e alietare i pasti invernali, saziando con gusto e mantenendoci in salute. Dovrai rinunciare alla zuppa per tre foglioline fredde su un piatto? Ma tu sei la solita zuppa! Non sto parlando di tre foglioline su un piatto, ma di cinque insalate gourmet gustosissime a base di verdure di stagione. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video! 1. Cavolini di Bruxelles. I cavolini di Bruxelles sono ricchi di antiossidanti, minerali e vitamine C e K. Uniteli a dell'insalata a foglia verde o del radicchio con pomodorini e carotine crude. 2. Barba bietola. Un'altra gustosa combinazione è l'insalata con la barba bietola, fettine di barba bietola arrostita con rucola e crauti, il tutto arricchito con noci, formaggio feta e condito con vinagrette di aceto balsamico. 3. Zucca. La zucca è ricca di fibre che saziano e non fanno ingrassare. Potete grigliarla e aggiungerla a cubetti sull'insalata, insieme a chicchi di melagrana, semi di zucca e formaggio di capra o tofu. 4. Kaki. Come rinunciare ai kaki d'inverno? Ai kaki ho dedicato anche un video. Con i kaki si possono comporre gustosissime insalate. Una ricetta carina è fatta con kaki mela o kaki vaniglia affettati e grigliati, uniti a farro, fettine di mela, noci, melagrana e conditi con vinagrette con limone e miele. 5. Cavolfiore. Potete creare una fantastica insalata a base di cavolfiore. Cuocetelo al vapore o fatelo bollito e aggiungetelo all'insalata con olive e pinoli. Condite con una vinagrette a base di senape e limone. Avete visto, amici, com'è facile creare insalate adatte all'inverno? E voi, avete creato una vostra variante di insalata? Fatemelo sapere nei commenti. Per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. La salute è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Mangia consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali. Grazie per la visione!